Buongiorno, sono Valentina Fraccaroli, titolare della CITCO, azienda di Cavaillon Veronese. Quest'anno ci siamo presentati alla Marmo Mac con un progetto di Zadid. Siamo molto soddisfatti della collaborazione perché ci intrigava moltissimo il suo stile di architettura e l'idea appunto era quella di trasformare, di riportare il suo stile di architettura nei nostri marmi. Siamo logicamente molto soddisfatti del risultato e soprattutto dell'affluenza che c'è stata in questa edizione di Marmo Mac.